eccoci buongiorno sono dottor gronda vi parlo dalla farmacia canobie in porta soprana come tutti i venerdì ormai ci ritagliamo il nostro piccolo spazio per parlarvi di alcune sostanze e oggi vi sorprenderò con delle sostanze veramente nuove perché a noi ci piace un cercare informarci studiare a fondo nuove sostanze che poi oggettivamente nuove non sono perché oggi vi parlo di 22 piante è per lo più di natura asiatica indiana cinese sud est asiatico e che si usano da millenni in effetti da noi vedo che adesso c'è grande pubblicità per queste due sostanze cui non mi farà sorridere si chiamano ashwagandha e bacopa sono una sono una pianta sempre verde che si trova nelle zone paludose e l'altra invece l'ashwagandha sono proprio delle bacche rosse tipo ribes rosso delle bacche che potrebbero riportare alla memoria appunto quelle che troviamo nei nostri boschi ma effettivamente non sono quelle sono importantissime noi è ormai è un anno che prepariamo capsule con questi principi attivi e abbiamo dei risultati veramente pazzeschi e in cosa agiscono agiscono come adattogeni e agiscono nella sfera della memoria nella sfera dell'attenzione e in più svolgono un'attività molto importante anche come antiossidanti alcuni rivelano degli effetti importanti a livello antinfiammatorio e ma soprattutto sono proprio una sferzata al nostro al nostro organismo ci rimettono molto in sesto se attivano le difese immunitarie c'è addirittura molti atleti che lo usano proprio per rigenerare la muscolatura e a distanza di qualche settimana dopo dei grossi sforzi sono delle capsule veramente ma veramente interessanti venite ve ne parliamo magari ve le prepariamo le provate per un certo periodo tanto si fanno per due mesi poi bisogna interrompere vedere un attimo e siamo molto soddisfatti chi le usa veramente ne ne parlerà in maniera estremamente soddisfatta venite c'è sempre da imparare qualcosa noi ci proviamo a imparare qualcosa voi avete piacere allora venite